Conviene investire nei TCG? Acquistare carte appartenenti a questo mondo risulterà essere un business valido nel breve, medio e lungo termine o si tratterà di un'enorme bolla speculativa? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. I trading card game hanno attratto negli ultimi anni diversi appassionati e curiosi che, oltre al settore giocato, hanno iniziato a volgere lo sguardo verso il lato strettamente economico che si cela dietro ogni carta esistente in mercato. Ma se da una parte ci sono coloro che corrono alla ricerca dell'opportunità, altri se ne tengono alla larga, credendo che prima o poi questa moda dell'investimento terminerà dopo l'esplosione di una bolla che si porterà dietro tutti i risparmi di chi è assaltato sul carro dei TCG come buono fruttifero. Infatti sono stati molti gli interessati che mi hanno chiesto personalmente consiglio su quali sarebbero state le carte da rendimento futuro più alto e la mia risposta è sempre stata la stessa. Non ne ho idea. Sì, si può tentare di prevedere un trend di mercato futuro avendo abbastanza dati a disposizione, come la presenza di una specifica carta nel meta, se c'è una richiesta particolare da parte dei collezionisti, la rotazione del formato, se esiste, se sono presenti segni particolari, la potenza, se è vintage e via discorrendo. Ma escludendo ogni singolo aspetto appena menzionato, prendiamo in considerazione solamente i due principali, che poi risponderanno alle domande che di solito si pongono le correnti di pensiero che dominano agli antipo di questo universo. I GCC sono un investimento da fare o sarà una bolla speculativa. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme se converrà investire nei TCG o se farete bene a tenervene alla larga. Andiamo a dargli un'occhiata. Investimento o bolla speculativa? Bene, dato che ultimamente noto che il termine bolla viene utilizzato spesso, per chi non sapesse di cosa si tratta vorrei iniziare approfondendone il significato. Per bolla speculativa si intende una particolare fase di mercato caratterizzata da un vertiginoso ed ingiustificato aumento di prezzo di uno o più beni. Di solito ci si rivolge ai mercati finanziari prendendo in considerazione le azioni, le obbligazioni o i titoli derivati come materie prime o valute. In gergo tutte queste vengono indicate come sottostante, ovvero la merce di scambio. Ma sono stati frequenti anche casi riguardanti beni materiali, come gli immobili. Vedasi la crisi dei mutui su Prime avvenuta nel 2008, che ha portato al collasso il mercato statunitense che poi si è portato dietro il resto del mondo. Ma come nasce una bolla speculativa? Trasliamo il tutto nel mondo dei GCC. Quando c'è un eccesso di domanda che porta una determinata carta ad aumentare il proprio valore perché semplicemente tutti la vogliono, l'euforia del momento porta acquirenti a spendere patrimoni nella speranza che il valore della carta stessa continui ad aumentare quanto più possibile, rivendendola in futuro, ricavandone infine un eccellente profitto. Ma si arriva ad un certo punto dove la tendenza di mercato aumenta talmente tanto che tocca una linea invisibile ma ben presente che prende il nome di resistenza. Una volta toccata questa linea il prezzo orbita attorno ad essa, salendo e scendendo, fino a quando a causa di tre fattori principali il valore della carta crolla, facendo per l'appunto scoppiare la bolla speculativa. Le tre dinamiche che possono portare a questa evenienza sono l'impossibilità di trovare nuovi acquirenti a causa del prezzo del sottostante, in questo caso la carta, troppo elevato, la vendita delle copie acquistate in precedenza da chi vuole liquidare la propria posizione traendone un profitto e una rivisitazione delle stime future che sono state fatte in passato, che, al momento dello scoppio, hanno modificato inaspettatamente le dinamiche interne dell'investimento, portando la maggior parte di chi è salito a bordo ad un'isteria compulsiva, tradotta con la vendita istantanea, anche a buon mercato, per rientrare il prima possibile dei soldi spesi o limitare al massimo i danni, minimizzando le perdite. Ora, si sta parlando di giochi di carte collezionabili e non azioni o strumenti finanziari vari, quindi andrà da sé che non ci sarà mai un ammanco di miliardi di dollari che metteranno in ginocchio una nazione o addirittura il mondo intero. L'unica cosa che però dovrete mettervi in testa da subito sarà che se vorrete iniziare a volgere lo sguardo verso gli investimenti appartenenti al mondo in questione, ci sarà sempre una componente di rischio da assumersi. Anche perché non sappiamo come sarà il futuro, ogni GCC ha le stesse possibilità di sopravvivere come morire, quindi starà a voi seguire l'istinto o concentrare l'attenzione su qualcosa di più stabile, come i grandi tre, che comunque continuano a sfornare novità su novità, arricchendo ancora di più il loro già ricco panorama. Ovviamente i primi set di ogni TCG che si rispetti avranno un valore più o meno elevato, ma la scelta infine spetterà sempre ed unicamente a voi. Quindi finanzi alla mano, calcolate per bene cosa converrà a fare ed una volta valutati pro e contro, procedete come meglio crederete. Ora quindi la domanda potrebbe essere, conviene investire nei TCG? La risposta è sì, se siete già dentro alle dinamiche di questo mondo, conoscete bene i rischi e tutto quello che ne può derivare, chiusura di un progetto, cessazione della produzione, vendita dei diritti e via dicendo. Mentre se vi state avvicinando al mondo dei TCG, il consiglio che posso darvi è il seguente, cercate quante più informazioni possibili, documentatevi, chiedete ai veterani affinché vi forniscano una guida salvandovi da eventuali danni economici che inevitabilmente abbatteranno anche il vostro spirito nel voler continuare, soprattutto perché per collezionare ci saranno molti aspetti da tenere in considerazione. A tal proposito segnatevi la data del prossimo 23 maggio, ci sarà un tomo che ho trovato nella biblioteca qui a Castello di cui vi parlerò nel prossimo episodio della rubrica Colleziono da Zero. Si tratta della prima guida in Italia per iniziare a collezionare i trading card game. Tornando a noi, tenendo in considerazione questi macro aspetti, mi sento di dire che di bolle speculative ce ne potranno essere, dannose e raramente catastrofiche per l'individuo, poi dipenderà anche dalla cifra che ci avrete speso. Converrà a investirci, tenendo sempre però in considerazione di chiedere un consiglio a chi è più esperto, soprattutto se nuovi in questo universo. Concludendo, di titoli lì fuori che dominano la piazza ce ne sono molti e molti altri ancora arriveranno, quindi di possibilità di investimento ne avrete pressoché infinite e con il tempo e l'esperienza che accumulerete con gli anni, riuscirete ad intercettare ogni opportunità traendone profitto. E voi avete mai intrapreso questo aspetto dei GCC? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei DCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.